L'ambiente di lavoro in cassa di risparmio oggi è un ambiente capace di dare soddisfazioni a chi vuole mettersi in gioco. Oggi il datore di lavoro Sparcasse offre un ambiente dove ogni giorno si prova a dare il proprio contributo per contribuire alla crescita e allo sviluppo della banca e quindi anche le persone più talentuose, più capaci di prendere con passione il lavoro, trovano da noi delle belle soddisfazioni. La nostra è un'istituzione che ha una grande storia e la sfida è quella di coniugare la tradizione con l'innovazione. Da una parte occorre un grande sforzo formativo per poter fare i mestieri tradizionali con logiche nuove e efficienza crescente. Dall'altra parte ci servono nuove competenze che diventano però determinanti per realizzare questo nuovo approccio alla clientela. Ci riferiamo per esempio a project manager, a specialisti di user experience e anche a data scientist per sviluppare appunto algoritmi predittivi e aumentare la nostra capacità di conoscere la clientela. La Cassa e risparmio è una banca a misura uomo che ha quella dimensione che ci permette di essere veloci quando serve, semplici quando serve e non troppo lenti come spesso succede nelle organizzazioni di lavoro più grandi della nostra. Cerchiamo voglia di mettersi in gioco, di accettare nuove sfide, voglia di crescere, cerchiamo voglia di far parte di un team con obiettivi da raggiungere, obiettivi condivisi e soprattutto cerchiamo positività e sorriso, quello non deve mancare mai. Grazie a tutti.